La regina, nota per il suo amore per i cavalli, è stata raggiunta dalla Contessa di Wessex e da Lady Louise Windsor al Royal Windsor Horse Show ed è stata la sua quarta visita questa settimana la regina era tutta sorridente quando è stata raggiunta dalla Contessa di Wessex e da Lady Louise Windsor al Royal Windsor Horse Show durante la sua quarta visita all'evento questa settimana. Il più grande spettacolo equestre all'aperto del Regno Unito si svolge ogni anno per 5 giorni e prevede gare internazionali in tre discipline equestri. La regina, nota per il suo amore per i cavalli, è stata fotografata mentre sorrideva mentre era seduta nella sua zona appartata durante lo spettacolo. Indossava un cappotto blu, un fular verde a fiori e scarpe marroni e indossava occhiali da sole. Sophie, che è sposata con il figlio più giovane della regina, il conte di Wessex, e sua figlia, Lady Louise, hanno preso parte alle attività della giornata andando a cavallo in carrozza durante lo spettacolo. Facendo eco alla sua precedente apparizione nel 2018, Lady Louise indossava un cappello verde, una giacca di tweed verde e una camicia bianca mentre guidava il suo cavallo e la sua carrozza. Si pensa che Lady Louise abbia ereditato il suo amore per l'equitazione e le carrozze da suo nonno, il duca di Edimburgo, morto ad aprile. Si ritiene che la carrozza a quattro ruote sia quella di proprietà di Filippo che è stata inclusa nel suo corteo funebre all'inizio di quest'anno. Realizzata in alluminio e acciaio, la carrozza è stata costruita secondo le specifiche del duca otto anni fa, attingendo alla sua conoscenza della guida della Federation Equestre International. Il duca era sinonimo di guida in carrozza e progettava i veicoli dagli anni 70. I rapporti hanno affermato che Lady Louise ha ereditato la carrozza dopo la morte del duca. Sebbene ciò non sia stato confermato da Buckingham Palace. Grazie a tutti. Grazie a tutti.